E dunque ristabilire una deterrenza nel Mar Rosso e cercare di limitare l'influenza degli Houthi sarà particolarmente difficile per l'amministrazione Biden nel futuro prossimo, perché di fatto rimangono loro in mano veramente poche carte da giocare. La guerra nella striscia di Gaza, fra Israele e Hamas, ha provocato in questi mesi enormi sommovimenti in tutto il Medio Oriente. Stati, fazioni e gruppi armati hanno cominciato a muoversi in maniera indipendente oppure organizzata e tutti questi movimenti stanno trasformando la regione in un posto sempre più pericoloso. I due grandi protagonisti di questa crisi sono ovviamente Israele e Hamas. E poi c'è tutta una serie di altri paesi e gruppi molto importanti, l'Iran, Hezbollah, l'Egitto. Tutti questi li abbiamo raccontati negli ultimi mesi in varie puntate del Globo. Oggi però parliamo di un protagonista inatteso, gli Houthi in Yemen. Anzitutto una nota sulla pronuncia. Ci siamo tutti abituati a parlare di Houthi, ma l'ospite di oggi, come sentirete, mi ha spiegato che per dirlo correttamente bisogna aspirare un po' le H, per cui proveremo a dire Houthi. Ecco, gli Houthi sono un gruppo armato sciita alleato dell'Iran, che controlla buona parte dello Yemen, compresa la capitale Sana'a, dopo un colpo di stato compiuto quasi dieci anni fa. E dobbiamo essere sinceri. Quando il 7 ottobre è cominciata la guerra a Gaza, gli Houthi non se li filava quasi nessuno. Lo Yemen è piuttosto lontano da Israele e dal centro del conflitto, e soprattutto gli Houthi sono un gruppo, sì temibile, ma ben lontano dalla forza militare dell'Iran o di Hezbollah, che sono entrambi loro alleati. Eppure gli Houthi, nel corso di questi mesi, hanno scoperto di avere un punto di forza eccezionale. E questo punto di forza è la geografia. La posizione geografica dello Yemen che loro controllano li rende una minaccia impareggiabile per i commerci globali. Ora, immaginate di essere a capo di una nave porta-container che parte da Rotterdam, il più grande porto d'Europa, e vuole arrivare in Cina. Con la vostra nave partite da Rotterdam. Costeggiate il Portogallo e poi entrate nel Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibraltar. Attraversate tutto il Mediterraneo e poi per arrivare all'Oceano Indiano dovete entrare nel Mar Rosso. Ecco, il Mar Rosso è un mare lungo, delimitato da due stretti. A nord c'è lo stretto di Suez, che è controllato dall'Egitto, e a sud c'è lo stretto di Bab al-Mandeb, che invece è controllato da una parte dal Djibouti, e dall'altra, ormai l'avete capito, dallo Yemen. Ecco, quello che è successo è che gli Houthi hanno cominciato a lanciare missili contro le navi mercantili che passano per lo stretto di Bab al-Mandeb. E il risultato è stato che hanno provocato giganteschi problemi ai commerci mondiali. E siccome il Mar Rosso è una delle vie commerciali più importanti del mondo, gli Houthi stanno mettendo di fatto in pericolo l'economia mondiale. Per questo da alcune settimane gli Stati Uniti hanno cominciato a bombardare posizioni militari degli Houthi in Yemen, con l'obiettivo di fermare gli attacchi contro le navi. Per ora è stato tutto inutile. Ma perché gli Houthi hanno cominciato a minacciare i commerci mondiali? Loro dicono di farlo per sostenere la causa palestinese. Ma in realtà, come vedremo, le motivazioni sono molto più ampie. Per questo a Globo è arrivato il momento di capire chi sono veramente gli Houthi, quali sono i loro veri obiettivi e quanto andranno avanti i loro bombardamenti e, di conseguenza, i bombardamenti americani. Insomma, cercheremo di capire cosa vogliono davvero questi attori secondari che improvvisamente si sono presi la parte da protagonisti e rischiano di provocare un grave allargamento del conflitto. Tutto questo lo raccontiamo e lo spieghiamo con Luca Nevola, analista esperto di Medio Oriente per ACLED, un centro studi che si occupa di tracciare, usando dati, mappe e analisi, i conflitti, gli episodi di violenza e le proteste in tutto il mondo. Luca Nevola ha vissuto in Yemen e ha visto parte dell'ascesa del movimento Houthi. Per questo a lui chiederemo chi sono gli Houthi e quanto è forte la loro minaccia. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Luca Nevola, benvenuto. Buongiorno, grazie a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, io vorrei affrontare questa puntata sugli Houthi e lo Yemen e non solo sugli Houthi e lo Yemen, poi ci arriveremo, dividendola in tre parti. Vorrei fare una prima parte di racconto in cui spieghiamo, raccontiamo quello che sta succedendo. Una seconda parte di approfondimento, in cui invece cerchiamo di andare più nel dettaglio di chi sono gli Houthi, cosa vogliono, da dove vengono. E poi una terza parte in cui proviamo a mettere insieme i puntini, diciamo così. Per fare questa prima parte di racconto, io farei modo di dare una definizione di lavoro, diciamo così, una definizione di minima di chi sono gli Houthi, in maniera tale che siamo tutti sullo stesso piano, sullo stesso livello, e poi nella seconda parte andremo più a raccontare, a spiegare, a dettagliare. Diamo questa definizione che, poi mi direi se è una definizione anche corretta, gli Houthi sono un gruppo armato sciita, jihadista, che da circa una decina d'anni più o meno controlla buona parte dello Yemen, sono alleati dell'Iran e nemici di Israele e degli Stati Uniti. È sufficiente? Direi sì, è sufficiente. Ci sono alcune categorie, alcune etichette che è applicato in questa definizione, che secondo me sono improprie, potrebbero essere approfondite in maniera migliore, però è una buona definizione. Ci arriveremo nella seconda parte. Quindi, adesso che ci siamo dati una definizione di minima, iniziamo a raccontare che cosa sta succedendo. A partire da novembre e dicembre, gli Houthi hanno cominciato a lanciare missili contro le navi che passano per il Mar Rosso e in particolare per lo stretto di Bab al-Mandeb, che è controllato in uno dei due lati appunto dallo Yemen. A gennaio poi gli Stati Uniti hanno deciso di rispondere militarmente a questi attacchi. Ci puoi raccontare cosa sta succedendo? Sì, allora, tutto quello che sta succedendo nel Mar Rosso è stato provocato dall'escalation che abbiamo visto a Gaza tra Hamas e Israele a partire dal 7 ottobre. A seguire il massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre, Abdul Malik al-Houthi, che è il leader degli Houthi, ha immediatamente celebrato l'operazione di Hamas e sostenuto la necessità di appoggiare la Palestina appellandosi ai paesi arabi e alla comunità islamica e chiedendo loro appunto di sostenere Hamas e di cercare di fermare ciò che gli Houthi considerano l'aggressione israeliana nei confronti della Palestina. Gli Houthi inizialmente hanno procrastinato, non hanno immediatamente reagito militarmente agli eventi del 7 ottobre, dichiarando che sarebbero intervenuti solamente laddove gli Stati Uniti avessero sostenuto direttamente Israele nelle sue operazioni militari. Successivamente, a seguire il massacro dell'ospedale Al-Ahli, avvenuto il 17 ottobre del 2023, due giorni dopo questo massacro, gli Houthi hanno lanciato i loro primi attacchi. La prima fase degli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso è stata caratterizzata da lanci di missili e droni a lungo raggio verso il porto di Eilat, nel sud di Israele. Successivamente, come menzionavi precedentemente, a partire da metà novembre, invece, il focus degli attacchi degli Houthi si è spostato. Inizialmente hanno dichiarato un obiettivo militare legittimo tutte le navi collegate in qualche maniera ad Israele. Successivamente c'è stata un'escalation a dicembre quando gli Houthi hanno dichiarato tutti i vascelli diretti verso Israele come potenziali obiettivi militari. Questo ha provocato un picco nel numero di attacchi degli Houthi contro i mercantili nel Mar Rosso e successivamente c'è stato, proprio l'ultimo giorno dell'anno, il 31 di dicembre, un evento spartiacque. Per quale ragione? Perché c'è stato uno scontro diretto tra gli Stati Uniti d'America e gli Houthi, il primo dall'inizio del conflitto in Yemen. Gli americani hanno aperto il fuoco su quattro navi degli Houthi che stavano cercando di sequestrare una nave cantile e il risultato è stata la morte di dieci miliziani degli Houthi. Gli Houthi hanno promesso una rappresaglia e successivamente questa rappresaglia è arrivata con un attacco diretto contro delle navi da guerra americane. A seguito di questo attacco diretto contro le navi da guerra americane e anche a seguito di una serie di ultimatum dati dagli Stati Uniti agli Houthi in cui si chiedeva che cessassero gli attacchi nel Mar Rosso, è arrivato il bombardamento diretto di obiettivi strategici Houthi in Yemen da parte degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito. Vorrei chiederti se puoi specificare meglio, ovviamente ce l'hai già un po' raccontato, però secondo me è interessante anche raccontare le motivazioni esplicite. Perché gli Houthi attaccano in questo modo le navi mercantili che passano per il Mar Rosso? Tu hai detto che è una ritorsione contro i bombardamenti, gli attacchi militari che Israele sta compiendo nella striscia di Gaza. Loro come la spiegano? Anche perché, insomma, in questo momento tra i paesi musulmani gli Houthi sono di gran lunga quelli più attivi nel compiere ritorsioni nei confronti di Israele. Tra i paesi soprattutto non solo musulmani ma alleati dell'Iran gli Houthi sono di gran lunga i più attivi. Quindi vorrei chiederti loro come la raccontano questa cosa, cosa dicono a questo proposito? Allora, io credo che l'intervento degli Houthi nel Mar Rosso vada compreso su differenti livelli. Innanzitutto, le dichiarazioni ufficiali degli Houthi collimano con l'impianto ideologico del movimento Houthi. Quindi è un pilastro dell'ideologia Houthi, l'opposizione a Israele e agli Stati Uniti d'America. Quindi la possibilità di avere un confronto diretto con Israele è qualcosa che gli Houthi minacciavano ormai dalla fondazione del gruppo all'inizio del ventunesimo secolo. E questa era un'occasione perfetta per mettere in atto anni di retorica politica. Questa strategia è stata molto efficace dal loro punto di vista perché effettivamente i Miemen hanno ottenuto un immenso consenso domestico e anche a livello regionale e internazionale hanno ottenuto la visibilità che cercavano. E potremmo addirittura sostenere che la recente designazione degli Houthi come gruppo terroristico da parte degli Stati Uniti d'America sia di fatto una forma di legittimazione e una forma di riconoscimento a quello che è il ruolo prominente che stanno esercitando nel Mar Rosso. Sempre tornando a settembre e ottobre 2023, un altro elemento è il fatto che gli Houthi in quel momento stavano negoziando con l'Arabia Saudita un accordo di pace e gli attacchi nel Mar Rosso gli hanno offerto maggiore leva. Tanto che verso la fine di dicembre questo negoziato di pace che ora è in bilico a causa dell'intervento degli Stati Uniti d'America sembrava volgere in favore degli Houthi con tutte le loro richieste che erano state esaudite appunto dall'Arabia Saudita. Su alcune di queste cose che hai detto torneremo poi successivamente l'Arabia Saudita, la guerra, l'accordo di pace e così via. Ma nel frattempo vorrei tornare alla parte in cui tu hai raccontato che gli Houthi in questo momento si stanno presentando come l'unico paese vicino alla Palestina che sta facendo qualcosa contro Israele, che sta reagendo militarmente contro Israele. Questa cosa, vorrei aprire una parentesi, è notevole perché c'è anche una forte spinta propagandistica che è sotto certi punti di vista sorprendente. Gli Houthi stanno usando in maniera piuttosto sapiente i social network per esempio, fanno i sondaggi su Twitter oppure mandano fuori questi video musicali anche con delle canzoni che sono obiettivamente abbastanza orecchiabili devo dire al netto del contenuto ovviamente. Ci racconti un po' anche questa parte propagandistica anche un po' volendo insomma per così dire pop? Assolutamente sì. Allora innanzitutto dobbiamo sottolineare il fatto che le capacità mediatiche degli Houthi non sono state interamente sviluppate a livello domestico ma c'è stato un ruolo determinante soprattutto da parte di Hezbollah nel addestrare gli Houthi all'utilizzo dei media e della propaganda in questa maniera estremamente efficace. E forse ti posso anche raccontare qualche aneddoto della mia esperienza in Yemen. Io ho vissuto con gli Houthi per circa un anno, nel 2012 e 2013, e già all'epoca, quindi prima del colpo di Stato, gli Houthi erano abilissimi nel ricercare il consenso domestico sfruttando tutta una serie di occasioni che gli consentivano di ottenere consenso facile e trasversale. Cioè consenso che non fosse necessariamente legato alla loro ideologia, ma a temi che sono invece sentiti dalla più vasta comunità islamica. Quindi ad esempio celebravano il Mawlid al-Nabawi, che è il compleanno del profeta Mohammed, se così vogliamo chiamare questa ricorrenza. Utilizzavano il loro motto, che recita, come probabilmente sai, morte all'America, per capitalizzare il sentimento anti-americano. Ricorderai che nel 2012 venne pubblicato un film di serie B, che era una parodia della vita del profeta Mohammed, un film chiamato The Innocence of Muslims. Ebbene gli Houthi, in quell'occasione, furono abilissimi nell'organizzare delle manifestazioni e nell'utilizzare il loro motto per catalizzare il sentimento americano generato da quel film. Inoltre addestravano nel villaggio in cui io vivevo i giovani a diventare dei cantanti di inni religiosi. Al contempo iniziavano a creare queste poesie tradizionali che in Yemen si chiamano Zawamil, che sono delle poesie musicate che normalmente vengono utilizzate nei consessi tribali. Quindi quando due fazioni all'interno di un conflitto tribale si avvicinano, ciascuna improvvisa una Zawamil. Ebbene gli Houthi le hanno musicate, hanno messo delle basi che sembrano quasi basi dance, con un beat molto accattivante, e hanno reso queste Zawamil dei prodotti che servono ad incitare al combattimento e incitare al supporto del movimento Houthi. Passiamo alla questione dei commerci internazionali. Nel senso che gli Houthi con questi lanci di missili stanno di fatto minacciando, mettendo in grave difficoltà i commerci nel Mar Rosso, che è una delle grandi vie di transito commerciali mondiali. Per il Mar Rosso passa all'incirca il 12% del commercio globale e il 30% del traffico dei container, che è quello più importante per le merci e per i commerci. Ci puoi aiutare a capire quali sono in questo momento gli effetti di questi attacchi? Ma gli effetti degli attacchi degli Houthi sul commercio globale sono drammatici. E la parola chiave da tenere in mente probabilmente è la parola rischio. Perché ad oggi, di fatto, gli attacchi degli Houthi non hanno prodotto vittime civili e hanno prodotto solamente dei danni minori alle navi mercantili. Però di fatto il rischio implicato da questi attacchi porta i vascelli commerciali ad adottare rotte alternative. Giusto per farti un paio di esempi, Intertenco, che rappresenta circa il 70% del traffico globale di idrocarburi, ha chiesto alle proprie navi di evitare il Mar Rosso. E si calcola che almeno un quarto dei mercantili vengano attualmente dirottati verso il capo di Buona Speranza. Questa deviazione allunga i tempi di percorrenza di circa 10-14 giorni e si stima che nel peggior scenario potrebbe portare a una riduzione della capacità globale di trasporto marittimo di circa il 20%. Questo genera un incremento dei prezzi del petrolio, genera un incremento del prezzo delle merci per i consumatori e soprattutto ha un impatto su quelli che sono i premi delle assicurazioni per i vascelli che intendono transitare per il Mar Rosso. Oltre ad avere un impatto sull'economia globale piuttosto importante, vale la pena sottolineare che questi attacchi hanno un impatto devastante sull'economia iemenita. Perché? Perché lo Yemen è considerato un'area ad alto rischio e già prima di questa escalation il premio di guerra delle assicurazioni in maniera 15 volte superiore al premio normale. Quindi questi attacchi stanno praticamente rendendo impossibile l'import per lo Yemen e di fatto sono stati molto efficaci nell'imporre l'embargo che gli Houthi intendevano imporre su Israele con il porto di Eilat che ha visto un crollo dell'import di circa l'85%. Questa è una cosa che io trovo estremamente interessante nel senso che fino a relativamente poco tempo fa fino a qualche anno fa diciamo gli Houthi erano un gruppo armato che insomma combatteva in infradito e ora con tutto il rispetto per l'infradito diciamo che non era una potenza intercontinentale ecco. Adesso gli Houthi sono un gruppo armato che lancia missili da crociera e che al potere di mettere in pericolo i commerci globali ergo al potere di mettere in pericolo l'economia del mondo. Questa vorrebbe essere un po' l'introduzione per poi fare il passaggio a raccontare chi sono gli Houthi ma intanto vorrei chiederti se qualche anno fa ti avessero detto che gli Houthi avrebbero letteralmente messo in pericolo l'economia del mondo tu come avresti reagito? Allora devo essere onesto avendo avuto la possibilità di vivere con loro non avrei mai pensato che sarebbero arrivati a mettere in pericolo l'economia del mondo ma già nel 2012 2013 ero certo che la minaccia costituita dagli Houthi fosse sottostimata dalla comunità internazionale e dal governo yemenita per quale ragione? Perché gli Houthi non hanno preso il potere in Yemen e non hanno preso la capitale dello Yemen in una notte ma c'è stato un processo molto lento e molto graduale attraverso il quale sono riusciti a costruire delle alleanze strategiche nel paese e a prendere quindi possesso dell'intera macchina statale questo processo era già piuttosto evidente anni prima del colpo di Stato e in particolar modo a seguito delle cosiddette primavere arabe dunque no non è completamente una sorpresa ma certo nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbero arrivati a minacciare l'economia globale anche perché mancava ancora un tassello prima del colpo di Stato ovvero l'appoggio del regime iraniano che è arrivato prevalentemente dopo la regionalizzazione del conflitto nel 2015 ok direi che abbiamo già messo abbastanza semini in giro in questa conversazione ed è ora di raccogliere un po' quello che abbiamo seminato abbiamo parlato appunto di colpo di Stato di presa del potere della capitale e così via per cui ti faccio la domanda quella più di approfondimento chi sono gli uti e da dove vengono allora per comprendere a fondo chi sono gli uti dobbiamo probabilmente comprendere da dove vengono le terre da cui provengono e fare un tuffo a Saada che è una provincia settentrionale dello Yemen Saada è un'area montuosa caratterizzata da strade impervie picchi isolati borroni che tolgono il respiro e ad ovest degrada verso la costa mentre a est è delimitata dal deserto ma l'informazione interessante è che a nord Saada confina con l'Arabia Saudita ora il paesaggio sociale di Saada è caratterizzato da una prevalenza di gruppi tribali e una popolazione che è quasi interamente aderente alla fede sciita zaidita dell'Islam questa popolazione subisce il fascino dei cosiddetti Hashimiti i Hashimiti anche chiamati Saada nel nord dello Yemen sono i discendenti del profeta Mohammed attraverso Fatima sua figlia e Ali Benapotolib suo cugino ora i Houthi possono vantare una discendenza da Mohammed si considerano cioè Hashimiti godevano quindi fin dagli anni Ottanta e fin dalla loro presenza a Saada di una certa reputazione e di un certo prestigio in quella zona ora come è nato il movimento Kuthi è nato dalla marginalizzazione subita dalle comunità saidite di quell'area marginalizzate dallo Stato che non portava progetti di sviluppo e soprattutto da uno Stato che a seguito della rivoluzione contro l'imamato nel 1962 cercava in qualche maniera di limitare il potere delle comunità saidite dell'Odm ma nascono anche dall'impatto della storia regionale perché? perché nel 1979 abbiamo la rivoluzione islamica in Iran e la presa di potere da parte della Yatollah Ruhallah Khomeini e nel 1982 abbiamo l'invasione del sud del Libano da parte di Israele è sotto l'influsso di questi eventi regionali e della marginalizzazione subita dalle popolazioni di Saada che nasce il primo nucleo degli Houthi ora il primo nucleo degli Houthi era composto letteralmente da poche decine di persone che masticavano Qat come fanno la maggior parte degli Yemeniti nel loro salotto arabo e ascoltavano alla radio i discorsi della Yatollah questo gruppo è evoluto nel corso di una ventina d'anni attraverso diverse fasi il passaggio fondamentale è il fatto che nello Yemen unitario e con la creazione di un sistema multipartitico Hussein Al-Houthi viene eletto parlamentare nella Repubblica dello Yemeni Hussein Al-Houthi è il fondatore degli Houthi essendo parlamentare e essendo a capo di un network di studenti chiamato la gioventù credente riesce a costruirsi un consenso attraverso questi campi estivi che raccoglievano migliaia e migliaia di studenti arriviamo quindi all'inizio del ventunesimo secolo con Hussein Al-Houthi che ha un immenso seguito di studenti e inizia a proporre una serie di conferenze e di discorsi che vengono raccolti in piccoli pamphlet che si chiamano Malasim e che costituiscono oggi il nucleo dell'ideologia Houthi ora l'ideologia politica degli Houthi si sovrappone in larga misura con quella del regime iraniano e gli elementi fondamentali di questa ideologia sono un'opposizione all'interventismo degli Stati Uniti d'America e Medio Oriente un'opposizione alla presenza di Israele e Medio Oriente e al sionismo politico di Israele un antisemitismo che è molto caratterizzante e quindi diciamo un odio diretto riferito alla comunità ebraica e la credenza complottista che di fatto l'intero ordine globale sia gestito da una lobby ebraica che sta quindi alle spalle degli Stati Uniti d'America e della stessa Israele nel tentativo di danneggiare la comunità islamica questi sono gli elementi fondamentali dell'ideologia Houthi e Hussein Houthi comincia a sviluppare questi elementi all'inizio del ventunesimo secolo come risposta di nuovo ad una serie di eventi internazionali innanzitutto l'intervento degli Stati Uniti in Iraq e successivamente l'intervento e precedentemente l'intervento degli Stati Uniti in Afghanistan ma anche la seconda intifada in Palestina ora in questa fase gli Houthi sono ancora un movimento che pur avendo un ampio seguito a livello di studenti ha poco supporto e sostegno a livello militare ma sono considerati comunque un pericolo dal regime dell'allora presidente Ali Abdullah Saleh perché iniziano a muovere una serie di critiche contro il governo iemenita e soprattutto contro l'alleanza del governo iemenita con gli Stati Uniti d'America nella cosiddetta guerra globale contro il terrorismo quindi gli Houthi sono un gruppo clandestino che si trova nel nord dello Yemen un gruppo sciita in un paese come lo Yemen che peraltro è la maggioranza sunnita e che però al momento delle primavere arabe trova la sua occasione 2011-2012 iniziano in tutto il mondo islamico enormi proteste contro le dittature che governavano i vari paesi islamici in quel periodo il presidente dittatore dello Yemen Ali Abdullah Saleh viene deposto e gli Houthi diciamo così trovano un vuoto di potere in cui inserirsi no? Esattamente è proprio grazie alle primavere arabe che il movimento Houthi viene sdoganato e comincia a diffondere la propria ideologia a livello popolare ma è anche a seguito delle primavere arabe che troviamo un altro elemento fondamentale dell'avanzata degli Houthi nel nord del paese ovvero l'alleanza con l'ex presidente Ali Abdullah Saleh Saleh viene deposto nel novembre del 2011 e a seguito della sua deposizione comincia a creare delle alleanze a livello locale con gli Houthi queste alleanze consentono loro di avanzare gradualmente prendendo alcune province nord del paese sempre con questo approccio graduale gli Houthi riescono a creare altre alleanze locali con una serie di tribù e questo li mette in condizioni nell'agosto del 2014 di arrivare alla periferia della capitale Sana'a che cosa succede nell'agosto del 2014 succede che il presidente dello Yemen Abdurrabbo Mansour Hadi aumenta il prezzo della benzina questa decisione scatena grandi proteste popolari e gli Houthi sono abilissimi a capitalizzare su queste proteste e a creare degli accampamenti intorno alla città partendo da questi accampamenti e da queste proteste marciano poi su Sana'a prendendo la capitale il 21 settembre del 2014 questa viene canonicamente considerata la data che dà inizio alla guerra civile in Yemen quando gli Houthi cioè prendono possesso delle istituzioni statali che cosa succede nei mesi successivi succede che gli Houthi continuano la loro avanzata prendendo il controllo delle regioni ovest e centrali dello Yemen a febbraio gli Houthi completano il loro colpo di stato con una dichiarazione costituzionale sciolgono il Parlamento e creano il Consiglio Supremo della Rivoluzione guidato da Mohammed Ali Al-Houthi con questa mossa hanno completato il colpo di stato e di fatto a livello istituzionale hanno preso il controllo del paese quindi settembre 2014 poco meno di dieci anni fa gli Houthi arrivano a controllare Sana'a che è la capitale dello Yemen e anche a controllare un bel pezzettone di territorio del paese a quel punto cosa succede? il conflitto in Yemen si regionalizza nel senso che in Yemen si formano due governi da un lato quello degli Houthi dall'altro quello del presidente che era appunto stato spodestato dagli Houthi e che prima si rifugia ad Aden che è una città nel sud del paese e poi si rifugia in Arabia Saudita questo presidente chiede l'aiuto dell'Arabia Saudita e si forma una coalizione di paesi guidata appunto dai Sauditi che attacca lo Yemen la guerra in Yemen dura all'incirca dieci anni i primi anni sono stati quelli più violenti più duri poi c'è stata tutta una serie di cessate il fuoco e fino a ottobre dell'anno scorso quando poi è iniziata la crisi fra Israele e Hamas erano in corso dei negoziati di pace ora la guerra in Yemen questi quasi dieci anni di guerra sono probabilmente una delle tragedie principali del ventunesimo secolo che ha portato a una crisi umanitaria feroce e quindi mi vergogno un po' di quello che ti sto per chiedere ma ci potresti fare un riassunto di questa guerra in Yemen di questi dieci anni di guerra che hanno portato gli Houthi ad essere quello che sono oggi certo il 26 marzo del 2015 una coalizione di paesi arabi a guida saudita che vede tra i suoi maggiori azionisti appunto Riyadh e gli emirati arabi uniti lanciano una campagna di bombardamenti sulle aree sotto il controllo degli Houthi questa campagna di bombardamenti unita al ruolo della resistenza nel sud del paese consente alla coalizione a guida araba di riconquistare molto rapidamente i territori che erano caduti sotto il controllo degli Houthi comincia quindi un conflitto che vede soprattutto nei primi quattro anni un utilizzo massiccio dei bombardamenti che ha degli effetti devastanti sulla popolazione civile i bombardamenti sauditi vanno a colpire l'infrastruttura civile compiendo veri e propri crimini di guerra che ad oggi rimangono solo parzialmente documentati complessivamente ACLED l'organizzazione per cui lavoro calcola che il conflitto in Yemen ha prodotto circa 160.000 vittime dirette di cui almeno 16.000 civili e questa evidentemente è una sottostima ma i numeri della crisi umanitaria provocata dal conflitto in Yemen sono enormi ci sono almeno 17 milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare e inoltre abbiamo circa 20 milioni di persone che dipendono dagli aiuti umanitari per non parlare poi degli sfollati interni che sono circa 4 milioni e mezzo inoltre la crisi in Yemen e il conflitto ha portato all'esplosione di una serie di epidemie colera morbillo e il covid giusto per menzionarne alcune e la distruzione completa dei servizi di base come ad esempio la sanità attualmente ad esempio nelle aree controllate dagli husi la sanità funziona solamente perché viene sostenuta dai finanziamenti internazionali altrimenti la macchina statale non avrebbe fondi per far funzionare la sanità e qui arriviamo a un altro elemento fondamentale del racconto degli uti che è l'alleanza con l'Iran a un certo punto diciamo che l'Iran inizia a vedere negli uti una potenzialità l'Iran peraltro è rivale storico regionale dell'Arabia Saudita per cui si crea anche quel meccanismo per cui il nemico del mio amico è mio amico insomma gli uti entrano a far parte di quello che ha definito l'asse della resistenza l'asse della resistenza è quel sistema di alleanze creato dall'Iran in Libano con Hezbollah in Siria in Iraq e anche in Yemen con gli uti e che è un sistema di alleanze con paesi più o meno dipendenti dall'Iran sono dipendenze economiche dipendenze militari dipendenze diplomatiche e che l'Iran utilizza diciamo così per portare avanti i propri scopi di politica estera peraltro sull'asse della resistenza abbiamo fatto qualche mese fa una puntata con Lorenzo Trombetta che vi consiglio di andare a recuperare quindi aggiungiamo quest'altro elemento l'alleanza la relazione fra gli uti e l'Iran ora possiamo analizzare la relazione tra gli uti e l'Iran su tre livelli c'è un livello ideologico un livello di supporto diretto a livello militare finanziario e logistico e poi c'è una relazione di tipo politico e diplomatico fin dall'inizio gli uti sono stati affascinati dalla rivoluzione islamica in Iran e dall'operato di Hezbollah in Libano quindi c'è un rapporto di ispirazione a livello ideologico che possiamo tracciare fin dagli anni 80 ma la relazione di supporto diretto in campo finanziario e militare comincia molto più tardi a partire dalle primavere arabe è infatti in seguito alle primavere arabe che gli uti cominciano ad avere dei rapporti diretti con il regime iraniano e iniziano le prime manifestazioni di sostegno militare dell'Iran nei confronti degli uti ad esempio nel 2013 viene sequestrata una nave iraniana che sta trasferendo armi iraniane in Yemen ora questo sostegno rimane comunque estremamente limitato fino all'inizio della guerra che cosa succede invece a partire dallo scoppio del conflitto regionale in Yemen succede che l'Iran inizia a trasferire addestratori expertise e soprattutto tecnologia in Yemen è proprio grazie questa tecnologia e agli addestratori e ai consiglieri che vengono forniti dall'Iran e da Hezbollah agli uti che gli uti sono in grado di creare il loro programma missilistico e sono in grado di avviare una fiorente industria di produzione di droni e di missili a lungo raggio che andranno ad aumentare in maniera drastica le capacità che hanno gli husi di fare deterrenza cioè di minacciare i partner regionali degli Stati Uniti ovvero l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti Ok quindi abbiamo fatto una cavalcata di una quindicina d'anni diciamo e siamo tornati ai nostri giorni possiamo dire che gli uti hanno vinto la guerra in Yemen nel senso pur avendo subito tutta una serie di perdite eppur essendolo Yemen un paese devastato dalla guerra tuttora in condizioni critiche feroci gli uti sono riusciti a mantenere il loro controllo su Sana' e su buona parte del territorio yemenita possiamo dire che gli uti hanno vinto questa guerra sì possiamo affermare senza remore che gli uti abbiano vinto la guerra in Yemen da tutti i punti di vista di fatto a livello di controllo territoriale il nord ovest del paese è saldamente nelle mani degli uti se un domani dovesse riprendere la campagna militare degli uti nel paese sarebbero probabilmente in posizione di riuscire a conquistare piuttosto agevolmente alcune province chiave dello Yemen tra cui Mari che è una provincia dell'est ricca di petrolio e Shabwa per quale ragione oggi sarebbe più semplice per gli uti avanzare militarmente in queste aree perché ciò che li spingeva indietro nei mesi passati e negli anni passati era il ruolo dell'Arabia Saudita i bombardamenti nell'Arabia Saudita ma ora con l'Arabia Saudita ai margini con l'Arabia Saudita che non ha intenzione di essere nuovamente coinvolta nel conflitto in Yemen gli uti potrebbero pensare di estendere la loro avanzata militare in una serie di province che sono attualmente sotto il controllo del governo internazionalmente riconosciuto inoltre gli uti hanno una carta importantissima in mano che è appunto l'utilizzo delle armi ad alta precisione negli anni gli uti sono riusciti a sviluppare missili a lungo raggio missili cruise droni a lungo raggio e grazie a questi droni sono posizionati in modo da poter colpire l'infrastruttura strategica dell'Arabia Saudita e degli Emirati quindi stiamo parlando dell'infrastruttura che l'Arabia Saudita utilizza per produrre il petrolio e dell'infrastruttura civile negli Emirati Arabi Uniti e quindi avendo dato una panoramica dello stato dell'arte vorrei provare a rifarti la domanda che ti avevo fatto all'inizio ricollegando però assieme tutti i punti cioè l'Iran l'Arabia Saudita e così via che cosa vogliono davvero gli Uthi da questi attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso? Rispetto alla crisi attuale nel Mar Rosso gli Uthi hanno tre obiettivi dichiarati pubblicamente l'obiettivo minimo è garantire l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza attraverso il valico di Rafa l'obiettivo intermedio è fermare quello che loro chiamano il genocidio e le operazioni militari israeliane a Gaza più recentemente a seguito dell'intervento militare degli Stati Uniti in Yemen hanno invece dichiarato un obiettivo massimalista che è demilitarizzare il Mar Rosso se guardiamo anziché le dichiarazioni a quelli che potrebbero essere gli obiettivi strategici e di lungo termine gli Uthi sono molto bravi a prosperare nel conflitto gli Uthi hanno bisogno di un nemico esterno a cui attribuire i loro fallimenti amministrativi ma sono molto meno credibili come amministratori statali in tempo di pace a partire dalla tregua siglata nell'aprile del 2022 gli Uthi hanno lanciato una serie di riforme nel nord-ovest del paese che però non hanno ottenuto gli effetti sperati ci sono stati disordini interni manifestazioni che domandavano servizi e pagamento degli stipendi quindi dal mio punto di vista l'obiettivo strategico degli Uthi è procrastinare cercare di prolungare la crisi attuale perché questa crisi garantisce loro consenso domestico e consenso regionale inoltre grazie alla crisi attuale gli Uthi sono stati in grado di reclutare decine di migliaia di nuovi combattenti in Yemen a contempo quello che gli Uthi cercheranno di fare dal mio punto di vista è salvaguardare nei limiti del possibile l'accordo con l'Arabia Saudita arrivando quindi a creare una situazione di stabilità interna nello Yemen e procedendo con un'escalation controllata nel Mar Rosso che consenta loro di posizionarsi a livello regionale come i paladini che difendono la Palestina possiamo dire quindi che questi attacchi nel Mar Rosso hanno un ruolo in buona parte performativo propagandistico cioè gli Uthi non hanno un obiettivo concreto con questi attacchi nel Mar Rosso ma hanno obiettivi soprattutto legati alla loro legittimità come attore contro Israele come attore nei confronti dell'Arabia Saudita sì sono d'accordo e questa ipotesi è confermata anche dal modo in cui è iniziata l'escalation nel Mar Rosso inizialmente gli Uthi hanno utilizzato dei missili a lungo raggio e degli attacchi verso Israele che avevano pochissime possibilità di causare danno all'infrastruttura civile in Israele o di fare vittime in Israele erano prevalentemente dei messaggi politici dei messaggi di vicinanza al popolo palestinese e dei messaggi politici attraverso i quali gli Uthi volevano promuovere il proprio ruolo soprattutto nei confronti dei partner regionali degli altri paesi arevi e degli altri paesi islamici che in questa crisi non stanno sostenendo la Palestina negli stessi termini messi in campo dagli Uthi e qui però si pone un po' un problema nel senso che è come se con questi attacchi in Mar Rosso gli Uthi avessero sbloccato un superpotere perché appunto sono un gruppo che è ben lungi dall'essere una superpotenza internazionale e che però ha il potere di mettere in crisi i commerci globali e l'economia globale e ora questo superpotere lo stanno utilizzando in questo contesto che abbiamo raccontato tra Israele e il resto della regione ma non è che poi ci prendono gusto come dire cioè loro hanno hanno la possibilità di fermare l'economia globale e possono dire non lo so vogliamo che Joe Biden cammini sulle mani se noi iniziamo a bombardare le navi nel Mar Rosso come funziona questa cosa? La crisi nel Mar Rosso ha evidenziato il fatto che la comunità internazionale ha sottostimato il ruolo degli Uthi in Yemen per molti la crisi nel Mar Rosso non nasce da un giorno all'altro ma c'erano avvisaglie del fatto che gli Uthi stessero accumulando armi capaci di colpire il Mar Rosso e la stessa guerra in Yemen il conflitto regionale scoppiato nel 2015 trovava tra le cause della sua origine proprio il desiderio di non lasciare in mano agli Uthi l'area strategica di Bab al-Manda non è dunque qualcosa di nuovo il fatto che gli Uthi abbiano la capacità di colpire il Mar Rosso il problema vero per gli Stati Uniti è che si trovano ora con pochissime carte nelle loro mani da poter utilizzare nel contenere la minaccia Uthi in Yemen di fatto gli Stati Uniti hanno praticamente già giocato tutte le carte che avevano nella loro mano hanno già utilizzato i mezzi militari e a quanto pare l'intervento militare e i bombardamenti statunitesi non sono stati sufficienti per limitare le capacità militari degli Uthi hanno già designato gli Uthi come gruppo terrorista ora è vero che non hanno utilizzato il massimo livello di designazione ma la designazione ad ora non ha provocato alcun effetto gli Uthi hanno già lanciato degli attacchi a seguito di questa designazione e dunque ristabilire una deterrenza nel Mar Rosso e cercare di limitare l'influenza degli Uthi sarà particolarmente difficile per l'amministrazione Biden nel futuro prossimo perché di fatto rimangono loro in mano veramente poche carte da giocare quindi l'idea e questa è una cosa che in realtà ha detto lo stesso Biden qualche giorno fa come tu stesso dicevi è che questi bombardamenti americani su postazioni militari yemenite per convincere gli Uthi a smettere di bombardare le navi mercantili non stia funzionando i bombardamenti messi in campo dagli Stati Uniti erano innanzitutto un tentativo di mandare un messaggio politico agli Uthi e di ristabilire una forma di deterrenza nell'area del Mar Rosso a seguito dell'escalation Uthi era probabilmente estremamente difficile per l'amministrazione Biden non pensare ad una forma di rappresaglia ma al contempo l'amministrazione Biden era consapevole del fatto che i bombardamenti non avrebbero azzerato l'arsenale degli Uthi e le loro capacità di colpire nel Mar Rosso era un tentativo di fare leva sugli Uthi il problema è che le forme di deterrenza solitamente funzionano finché vengono minacciate nel momento in cui la minaccia viene realizzata e non sortisce alcun effetto nei confronti degli Uthi diventa difficile trovare nuove forme di leva che possano avere una qualche efficacia nei confronti del gruppo è qui che stiamo andando alla fine della nostra conversazione ti faccio la domanda che ho già fatto tante volte in questi ultimi mesi ed è la domanda su l'espansione del conflitto nel senso che come abbiamo un po' provato a raccontare questi bombardamenti degli Uthi e la risposta degli Stati Uniti si inseriscono all'interno di un conflitto più grande che vede ovviamente Israele e Hamas come attori principali ma poi anche Hezbollah e Libano l'Iran le milizie scite e però il fatto che gli Stati Uniti a partire da gennaio abbiano deciso di bombardare direttamente lo Yemen e quindi per la prima volta di intervenire direttamente all'interno di questo grosso complesso di conflitti medio orientali che sono nati negli ultimi mesi è un'escalation piuttosto grossa no? Sì l'escalation in Yemen è un'escalation piuttosto grossa ma è anche un'escalation piuttosto imprevista gli Stati Uniti sono già intervenuti direttamente in una serie di conflitti medio orientali ma la crisi che si è andata generando nel Mar Rosso con lo Yemen non era una crisi prevista dagli Stati Uniti e la dimostrazione di questo fatto sta nella difficoltà che gli Stati Uniti stanno trovando nel reagire alla crisi stessa e la parola che forse definisce meglio questo conflitto in Yemen è imprevedibilità il conflitto che si è ingenerato a partire dalla crisi del 7 ottobre è un conflitto che nessuno degli attori regionali prevedeva e nessuno degli attori regionali voleva in questi termini e con queste dimensioni e sono pochi gli attori che attualmente stanno beneficiando dalla situazione i Houthi in Yemen ad esempio sono stati particolarmente abili nel capitalizzare rispetto a questo conflitto ma per quanto riguarda gli altri attori regionali e gli Stati Uniti la direzione in cui stava andando il Medio Oriente era un'altra era in corso una distensione tra l'Iran e l'Arabia Saudita era in corso una distensione tra l'Arabia Saudita e Israele era già stata normalizzata la relazione diplomatica tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele lo stesso Hassan Nasrallah il leader di Hezbollah si è trovato in una situazione estremamente difficile da gestire tanto che nelle prime settimane della crisi aveva apertamente dichiarato che la rappresaglia dell'asse della resistenza sarebbe stata portata avanti dai partner in Yemen e in Iraq tutti questi sono elementi che dimostrano quanto a volte i calcoli strategici non funzionino e di fatto ci si trovi di fronte a situazioni particolarmente inaspettate che diventano poi estremamente difficili da gestire per tutti gli attori coinvolti basta pensare al fatto che ad esempio gli Stati Uniti intervenendo in Yemen hanno di fatto portato al compimento di una profezia che si autoadempie è infatti dal 2002 che Hussein al-Hussey il fondatore del movimento Hussey minacciava l'idea che gli Stati Uniti avessero l'obiettivo di intervenire direttamente in Yemen ecco con l'intervento militare degli Stati Uniti in Yemen si porta a compimento questa profezia e gli Hussey riescono dunque a guadagnare a livello simbolico un'immensa quantità di capitale e però il fatto è che questa crisi che come dici tu nessuno si aspettava e soprattutto nessuno voleva sta provocando l'accensione di varie fiammelle un po' in tutta la regione qualche giorno fa il New Yorker la rivista statunitense ha fatto un titolo che secondo me è molto efficace ed è dieci conflitti medio orientali stanno convergendo in un'unica guerra dove questi conflitti sono appunto Israele, Hamas Hezbollah, l'Iran e così via quelli che abbiamo citato compresi gli Uthi vorrei chiederti un po' questo chiaramente è una domanda complicata una domanda che richiede un elemento di previsione di incertezza però secondo te tutte queste fiammelle che si stanno accendendo in maniera appunto anche un po' involontaria perché c'è davvero questa idea che i grandi paesi che stanno operando nella regione non vogliano che succeda quello che sta succedendo eppure non riescono a fare altrimenti tutte queste fiammelle si trasformeranno in un grande incendio la possibilità che tutte queste fiammelle si trasformino in un grande incendio è legata a quella che sarà la gestione del conflitto e soprattutto della situazione del conflitto israelo-palestinese da parte dei grandi attori internazionali sto parlando evidentemente degli Stati Uniti e dell'alleanza che si è andata catalizzando intorno all'operazione Prosperity Guardian ma sto parlando anche degli altri grandi attori internazionali la Russia e la Cina ad esempio proprio nei giorni scorsi la Cina ha posto l'enfasi su quella che è la situazione del conflitto israelo-palestinese sottolineando quanto di fatto la situazione nel Mar Rosso sia la diretta conseguenza delle operazioni militari israeliane a Gaza dunque la possibilità di non far deflagrare questa situazione dipenderà molto dalla capacità di gestire il conflitto a Gaza e in questa maniera di togliere a tutti gli attori dell'asse della resistenza il pretesto per continuare gli attacchi nel Mar Rosso questo dal punto di vista regionale e internazionale se guardiamo invece alla gestione strategica da parte degli Houthi sarà fondamentale capire quanto gli Houthi abbiano intenzione di salvaguardare l'accordo di pace con l'Arabia Saudita se l'escalation dovesse continuare e se gli attacchi americani dovessero crescere in intensità e in livello con operazioni più complesse nei confronti degli Houthi evidentemente l'accordo di pace verrebbe messo da parte se invece gli Houthi decidesse di proseguire con una forma di escalation controllata quindi proseguendo negli attacchi nel Mar Rosso ma con attacchi meno decisivi e meno eclatanti probabilmente si potrebbe raggiungere un nuovo equilibrio ed evitare una forma di conflagrazione a livello regionale prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo chiaccialalpost.it vi ricordo di attivare le notifiche e se vi piace questo podcast di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe piacere e adesso Luca Nevola ti chiedo tre consigli libri film podcast serie tv musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire allora il primo libro che vorrei suggerire a tutti gli appassionati di Yemen si intitola La guerra privata del tenente Ghiglie è un libro scritto da Vittorio Dansegre ed è un libro che racconta la vita dell'ufficiale di cavalleria Amedeo Ghiglie racconta degli anni tra il 1940 e il 1942 quando il tenente di cavalleria Ghiglie tenne testa agli inglesi dopo la resa dell'Eritrea è un libro che non è interamente focalizzato in Yemen ma è un libro che ha molto a che fare con lo Yemen perché poi Amedeo Ghiglie scappò in Yemen e visse alla corte dell'Imam Miahia per oltre un anno in termini invece di documentari o di film che hanno a che fare con lo Yemen non posso fare altro che consigliarvi anche il bellissimo documentario sempre focalizzato su Amedeo Ghiglie prodotto dalla storia siamo noi che si chiama La leggenda del comandante diavolo un altro film famosissimo che si focalizza sullo Yemen è il film del 1974 di Pasolini Il fiore delle mille e una notte e parte di questo film è stato girato a Zabid inoltre se vogliamo concentrarci invece su consigli relativi alla musica vi consiglio di cercare su YouTube sono molto facili da trovare le Zawamin degli Houthi le poesie di cui abbiamo parlato precedentemente e per finire vi consiglio un brano tradizionale il cantante yemenita è Ali Al-Hansi e il brano si chiama Al-Hob Wal-Bone si trova su YouTube e il titolo della canzone vuol dire l'amore il caffè unisce le due cose più belle che si possono trovare in Yemen e ovviamente tutti i link ai consigli di Luca Nevola li trovate nella descrizione del podcast e Luca Nevola grazie grazie a voi e grazie ai vostri ascoltatori grazie a voi grazie a voi grazie a voi